Deve essere ristabilita la mia autorità. È un attacco di vampiri. Portatela subito! Non urlare, ti prego. I cittadini hanno piena fiducia nella capacità della Chiesa di garantire la loro sicurezza. Tu non intaccherai questa fiducia. Hanno fiducia in una menzogna. Se solo proverai a lasciare le città, sarei espulso dall'ordine e scomunicato immediatamente. La guerra è finita da tempo. Non è mai finita. Non per me. Non per me. Grazie a tutti. Grazie a tutti.